Se Riccardo Berardino ha avuto il merito di estrarre a Giulianova la pepita da tre punti, Marino Bifulco dal canto suo è stato bravissimo a blindarla in cassaforte. Il numero uno nero-verde con le sue parate è stato decisivo nel conservare la preziosa marcatura e se il Chieti ha infilato il sesto risultato utile consecutivo, mantenendo ben saldo il terzo posto, un po' lo deve anche al suo estremo difensore. Il risultato è sempre frutto del lavoro di squadra, al di là delle individualità, ognuno di noi deve mettere a disposizione della squadra quello che ha per il bene della squadra. Quindi domenica ci ho messo una pezza io, in altre occasioni sono stati bravi i miei compagni a salvare il risultato oppure a portare il risultato a nostro favore. Oltre che con l'intera posta in palio, il Chieti è tornato dal derby non solo con dei punti ma anche con qualche certezza in più. Quella di saper soffrire l'avversario, di stringere i denti quando la partita lo richiede. Un bel passo in avanti per chi, come Teatini, sono impostati più per offendere che per difendere. Per noi è sempre stato difficile difendere il risultato. Poi abbiamo giocato contro una squadra che aveva fatto dell'agonismo la loro migliore arma. Siamo stati bravi a non sbagliare nulla perché siamo stati 50 minuti sotto pressione e lì in quelle partite una minima incertezza di far buttare via il risultato. Siamo stati bravi in quello. Domenica all'Angelini, altra sfida verità. Arriva la Giacomense a quota 35 punti proprio come la formazione di Vivarini. In palio, in caso di successo, il gradino più basso del podio su cui sedersi senza nessun'altra compagnia. Sarà sicuramente una battaglia come tutte le domeniche. Io ho sempre detto che è un campionato che si deciderà alla fine perché basta vedere a fine girone d'andata che stavamo ancora tutti lì. Sarà dura, dobbiamo vivere la giornata e dare il massimo ogni domenica.